Buonasera e benvenuti. Benvenuti nuovamente al nostro spazio, quello dedicato alla LILTA, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Quest'oggi ospitiamo la nostra vicepresidente, la dottoressa Francesca Cesareo, cardiologa dell'ospedale delle Scott e che oggi parleremo di un argomento molto particolare. È la medicina di genere che ha molto a che fare con la nostra missione, quella della prevenzione, della prevenzione oncologica perché ha a che fare con la differenziazione fra uomini e donne rispetto alle cure, rispetto alle terapie, rispetto anche all'inquadramento del paziente. Oggi capiremo meglio di che cosa si tratta perché la medicina di genere non è solo un cartello, una definizione fino a se stessa, ma può essere molto utile nel percorso di ogni paziente. Vediamo come e proprio la dottoressa Cesareo ci spiega in che cosa consiste la medicina di genere e come viene inquadrata oggi anche dal sistema sanitario nazionale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito anche se in realtà mi sento a casa, mi trovo a casa e approfittiamo anche appunto del luogo in cui ci troviamo per parlare sì di prevenzione ma un po' più mirata parlando anche un po' di questa medicina di genere che negli anni ha assunto sempre una maggiore importanza. Diciamo per spiegare partiamo da cosa non è. Allora non è una medicina per medici generici, non è una medicina che riguarda popolazioni fragili, non è un genere di medicina complementare o non convenzionale e soprattutto non è la medicina degli apparati riproduttivi. Questo lo dico perché effettivamente anche in ambiente proprio nella medicina tradizionale fino agli anni 90 inoltrati si parlava di sindrome del bikini, ossia che la medicina era basata sulla nozione che il corpo maschile rappresentasse il riferimento e che le uniche differenze che venivano riconosciute riguardavano l'apparato riproduttivo o ginecologico. In realtà non è così. La medicina di genere è una scienza che studia l'influenza del sesso nella sua accezione biologica e del genere nella sua diciamo accezione sociale sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e sulla clinica di tutte le malattie con lo scopo di raggiungere a decisioni terapeutiche che possano essere specifiche per l'uomo e per la donna. Questo perché è vero che uomini e donne sono soggetti alle medesime patologie, tuttavia esistono delle differenze significative che riguardano l'incidenza della malattia stessa, l'epoca di insorgenza, come progredisce la malattia, la risposta alle terapie e quindi anche la prognosi delle malattie. Quindi la medicina di genere riguarda tutti gli aspetti della salute con lo scopo diciamo di cercando di prevenire, diagnosticare e curare le malattie che sì sono comuni ai due sessi ma che incidono in maniera differente nell'uomo e nella donna e queste differenze chiaramente sono complesse perché alla fine non si può ridurre tutto alla differenza dell'assetto ormonale, cioè gli ormoni. Come verrebbe spontaneo insomma. Come verrebbe spontaneo, forse come alcuni uomini magari ogni tanto dicono. Questo è vero che hanno un ruolo chiaramente importante, fondamentale, però non tutto può essere spiegato con la componente ormonale. Questo ce lo dimostra il fatto che spesso differenze di genere esistono anche in alcune malattie pediatriche, in età pediatrica. È un'età quella in cui diciamo la componente ormonale sicuramente ha una rilevanza ancora non così importante. Per cui diciamo che fino ad oggi o comunque fino agli ultimi anni è stato un po' trascurato questo concetto, questo principio della differenza di genere per quanto riguarda soprattutto gli studi, le ricerche anche sia in fase preclinica che anche proprio di sperimentazione di farmaci, di proprio trials clinici. Infatti la donna è stata un po' diciamo così trascurata perché la maggior parte degli studi, delle ricerche include nella stragrande maggioranza uomini. E questo invece, come abbiamo visto negli anni, venire fuori questo concetto di medicina di genere sarebbe molto importante includere sempre in maniera maggiore e anche nei vari studi anche una larga componente di donne. E questo un pochino è stato diciamo accettato anche perché alcuni anche organi importanti come l'AIFA hanno recentemente raccomandato proprio di inserire sempre un maggior numero di donne nelle sperimentazioni. Non solo, ma negli anni l'importanza della medicina di genere è stata dimostrata dal fatto che esiste un centro di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto Superiore di Sanità che si occupa proprio, si è occupato in questi anni, continua ad occuparsi della diffusione, formazione, educazione nell'ambito della medicina di genere, di cercare di trovare, di fare una valutazione di quali possono essere gli approcci di prevenzione negli uomini e nelle donne, di studiare i meccanismi patogenetici che stanno alla base delle malattie in cui si riesce a identificare una differenza di genere cercando di trovare proprio dei biomarcatori che possano essere genere specifici, quindi sia per la diagnosi che per la prognosi delle malattie ed anche importante sulla risposta alle terapie in cui si rileva in maniera importante l'aspetto della differenziazione. Non solo, ma nel 2018 è uscita anche una legge, è stata appunto promulgata una legge in cui il Ministero della Salute, diciamo avvalendosi del centro di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto Superiore di Sanità, ha promosso una serie di attività sia di formazione che di educazione ma anche di indicazione proprio di pratiche sanitarie che sia nella ricerca ma anche nella diagnosi, nella prevenzione, nella cura delle varie malattie potessero individuare un approccio che sia il più possibile omogeneo e diffuso sul territorio nazionale in modo proprio da dare una appropriatezza e una specificità della cura proprio legata a questo importante concetto della differenza di genere in modo da riuscire anche un po' a raccogliere dati il più possibili che riguardino questi aspetti della differenza di genere e che possano permettere anche di stilare, di promuovere delle linee guida che possano essere genere specifiche anche perché se si pensa bene gli studi e le sperimentazioni che appunto dovrebbero cercare di includere un maggior numero di donne questi sono poi gli studi che vanno poi a definire quali saranno le strategie terapeutiche, le linee guida terapeutiche delle varie patologie, anche delle strategie di prevenzione che in realtà riguardano tutti quindi c'è stato un po' un pensare che i dati derivanti dagli studi sugli uomini per la similarità che c'è tra uomini e donne potessero essere estrapolati anche per la donna in realtà poi si è visto non essere propriamente così Avete capito quindi quanto sia importante la medicina di genere e quante applicazioni possa avere quella che avete ricevuto dalla dottoressa Cesareo è una spiegazione molto importante che dà i fondamenti della medicina di genere che sicuramente ricoprerà un grande ruolo nel futuro nella sanità ma andiamo nello specifico, vediamo dottoressa qual è l'applicazione reale della medicina di genere nei vari settori da dove cominciamo? Magari dal nostro, quello dei tumori, no? Noi tutti i giorni ci occupiamo di questo, per esempio abbiamo tante donne che si rivolgono a noi quindi una specificità importante nella medicina di genere come ci possiamo muovere in questo senso? Beh, diciamo che possiamo fare alcuni esempi un po' anche per capire un po' quali sono queste differenze quali possono essere sicuramente i tumori rappresentano un settore in cui la differenza di genere esiste, è stata documentata direi che forse come esempio più eclatante possiamo, a parte ora il tumore al seno che chiaramente è molto noto a tutti insomma e si capisce anche quale possa essere la differenza ma il melanoma, il melanoma è un esempio eclatante di differenza di genere nel senso che è un tumore che si è visto avere una, diciamo, un'aggressività minore nella donna una tendenza a metastatizzare, ad essere più aggressivo, inferiore nella donna avere una maggior risposta alla terapia e sicuramente una componente può essere spiegata anche qui con l'assetto ormonale insomma col fattore ormonale ma anche il fattore immunitario rappresenta un fattore determinante questo sappiamo, insomma, nell'interazione tra tumore e ospite quanto possa essere importante l'immunità è un fattore importante che mi viene, diciamo, mi viene bene per fare un altro esempio sulle differenze di genere, le malattie autoimmunitarie le donne hanno, sono più suscettibili rispetto alle malattie autoimmunitarie rispetto agli uomini per fare un esempio il lupus o l'artrite reumatoide piuttosto che la sclerodermia le tiroiditi sono molto frequenti nelle donne questo perché nella donna c'è una risposta immunitaria sia cellulare che umorale che è maggiore e più efficace rispetto all'uomo quindi da una parte le rende più suscettibili alle malattie autoimmunitarie è anche vero di contro che potrebbe essere un fattore a favore della donna e cioè avere una risposta immunitaria più efficace e più intensa potrebbe essere protettiva, per esempio, nei confronti delle infezioni e si è visto in effetti, nei confronti, visto che siamo in un periodo di infezioni virali abbastanza intenso effettivamente nella donna le infezioni virali hanno un'incidenza, una prevalenza inferiore rispetto all'uomo e anche l'effetto delle terapie e dei vaccini è diverso proprio in virtù di questa differenza nella risposta immunitaria effettivamente nelle donne si ottiene in risposta ai vaccini antivirali una risposta immunitaria maggiore, più efficace a scapito però, diciamo, degli effetti collaterali che possa avere il vaccino un'altra differenza di genere molto nota a tutte le malattie neurodegenerative l'Alzheimer, l'Alzheimer nella donna sicuramente ha una frequenza maggiore due volte più frequente rispetto agli uomini quindi diciamo che se entriamo un po' poi nello specifico ma ci sono differenze in vari settori che possono riguardare appunto le differenze di genere e invece quando parliamo di farmaci possiamo fare delle differenziazioni anche in questo caso fra uomini e donne per la risposta che danno gli uomini e le donne rispetto alle cure che vengono somministrate sì, anche nel caso della risposta ai farmaci possiamo fare delle distinzioni chiaramente tutti i farmaci che assumiamo subiscono un processo che riguarda l'assorbimento del farmaco la distribuzione del farmaco nell'organismo la metabolizzazione e l'eliminazione quindi tutte queste fasi sono influenzate da vari fattori pensiamo banalmente alla superficie e alla massa corporea chiaramente nella donna inferiore quindi sicuramente già questo influenza il grado di risposta ai farmaci non solo c'è una differenza per quanto riguarda ad esempio il pH dello stomaco o l'attività della funzione respiratoria anche il cuore stesso la portata cardiaca nella donna è inferiore quindi anche la distribuzione può risultare inferiore e soprattutto cosa è importante la funzione epatica perché nel fegato risiedono quella famiglia di enzimi che è responsabile poi della maggior parte della metabolizzazione della maggior parte dei farmaci che noi assumiamo e si è visto che questa famiglia che si chiama globalmente citocromo P450 ha una distribuzione nel fegato che è legata al sesso in particolare c'è alcune sottopopolazioni di questa famiglia di enzimi che hanno una maggior distribuzione nella donna quindi è chiaro che questo correla col grado di risposta e quindi anche di tossicità che un farmaco può avere quindi di effetti collaterali e poi c'è un ambito molto importante che noi alla LILTE curiamo molto e ovviamente è pane quotidiano per la nostra dottoressa Cesareo ed è quello cardiologico noi abbiamo dedicato varie giornate alle donne proprio in questo ambito perché abbiamo la sensazione che talvolta si sottovalutino alcuni segnali nelle donne perché viene comunemente detto che le malattie cardiovascolari appartengono molto meno al sesso femminile ma è così dottoressa? Beh non è proprio così diciamo ci tengo molto a questa cosa perché a parte il lavoro che faccio e quindi chiaramente un po' più di mia competenza ma ci tengo molto perché se ci pensiamo in realtà da tutti i dati che abbiamo epidemiologici sia in Italia che in Toscana la principale causa di morte probabilmente nelle donne è rappresentata dalle malattie cardiovascolari i tumori sono al secondo posto quindi questo la dice lunga e la cardiopatia ischemica rappresenta la prima causa tra le malattie cardiovascolari di mortalità nelle donne ed è vero che sì probabilmente c'è una crescente consapevolezza da parte della donna di quanto possa essere importante la prevenzione delle malattie cardiovascolari però credo e dati insomma lo confermano che solo una piccola percentuale di donne effettivamente ritenga percepisca che il rischio cardiovascolare la malattia cardiovascolare rappresenti il più grosso rischio per la propria salute quindi al primo posto come abbiamo detto e quindi questa alterata percezione diciamo è quella che ostacola poi il percorso di riduzione del rischio cardiovascolare è vero che le donne sottostimano spesso i propri sintomi perché non è solo colpa loro un po' perché siamo sempre molto attive e quindi diciamo che tendiamo sempre un po' a sottovalutare perché abbiamo tante cose da fare pensare a tante cose però è anche vero che i sintomi cardiaci nella donna sono un po' atipici un po' più sfumati rispetto all'uomo per cui soltanto in un 25% di donne per esempio per quanto riguarda la cardiopatia ischemica all'infarto il sintomo è tipico cioè quello che tutti conosciamo il dolore al petto al braccio sinistro quello sono nel 25% dei casi nella stragrande maggioranza dei casi nelle donne i sintomi sono diversi si possono manifestare con un dolore o un fastidio alla bocca dello stomaco un senso di costrizione proprio alla gola una sensazione di affaticamento e di malessere che riduce un po' la capacità di fare le cose ma noi andiamo avanti episodi di sudorazione fredda all'improvviso sensazione un po' di obnubilamento alla testa quindi sono sintomi che effettivamente insomma un po' è facile che vengano sottovalutati ma non è solo colpa delle donne diciamo che negli anni ora forse sicuramente negli ultimi anni molto meno ma già nel 91 una cardiologa americana aveva denunciato in una delle riviste più importanti mediche a livello internazionale l'atteggiamento discriminatorio da parte dei cardiologi rispetto alle donne cioè proprio questa sottostima proprio anche da parte del medico dei sintomi della donna e si è visto anche dai dati proprio negli anni che anche le terapie le strategie terapeutiche sia farmacologiche ma anche e soprattutto interventistiche quando si parla per esempio del palloncino dell'angioplastica come terapia dell'infarto nelle donne sicuramente i dati dimostrano che è meno utilizzata cioè meno e anche probabilmente chiaramente questo non è solo ora era un po' una provocazione chiaramente non è solo un atteggiamento discriminatorio perché ci sono anche dei motivi per cui questi tipi di strategie vengono diciamo hanno una percentuale inferiore nella donna chiaramente perché la patologia è un po' più complessa diversa quindi questo vuol dire che la malattia coronarica è diversa nella donna si presenta in maniera diversa sì diciamo di sì cioè se noi pensiamo che l'infarto quello che tutti abbiamo nella nostra diciamo che popolarmente insomma è riconosciuto cioè la malattia aterosclerotica le placche che vanno ad ostruire le coronarie le arterie del cuore e che si rompono e sopra queste placche si vanno a formare dei coaguli e quindi vanno a ostruire la coronaria e quindi fanno soffrire il muscolo cardiaco e questo poi è la definizione dell'infarto nelle donne questo meccanismo è significativamente inferiore rispetto agli uomini nelle donne c'è una maggior prevalenza per esempio delle malattie dei piccoli vasi cioè le coronarie le arterie del cuore sono fatte come un albero cioè un tronco principale i rami principali e poi i rami sempre più piccoli nelle donne molto spesso interessate proprio dalla malattia sono i vasi più piccoli quindi quello che si diceva prima più difficoltoso fare procedure diciamo interventistiche con un rischio di maggiori complicanze rispetto all'uomo i vasi sono più piccoli di per sé anatomicamente più tortuosi anche la placca è fatta diversamente rispetto all'uomo nella donna esiste il cappuccetto che sta sopra la placca che ostruisce ha una componente fibrosa diciamo protettiva che è più sottile quindi può andare incontro a un'erosione e quindi non ha una rottura come avviene nell'uomo e poi c'è diciamo una serie anche di di meccanismi proprio diversi dall'aterosclerosi cioè il vaso spasmo è molto più frequente nelle donne cioè il vaso non è malato da parte delle placche di aterosclerosi ma la parete del vaso si stringe e va a chiudere e determinare l'infarto con questo meccanismo oppure ancora che forse ora è un po' più un po' più nota ma si chiama sindrome di Takotsubo che poi è l'infarto da stress diciamolo così che è tipico delle donne cioè è una forma di infarto che avviene nelle donne più frequentemente e molto più raramente nell'uomo in cui c'è proprio un infarto a seguito di un forte stress che sia emotivo per esempio un lutto una discussione molto accesa e questo diciamo ha proprio una forma particolare quando si va a vedere il cuore si forma proprio una specie di palloncino cioè tutta la parte dell'apice del cuore è ferma si dilata e fa una specie di palloncino e in questo caso molto spesso si trova le coronare sane quindi proprio una forma particolare che è molto tipica della donna poi ci sono anche altri tipi di forme minori ma effettivamente c'è una differenza e questa può spiegare anche questi sintomi più sfumati e meno tipici che ci sono nelle donne bene quindi abbiamo capiamo che abbiamo fatto bene a organizzare alcune giornate di prevenzione cardiologiche con le visite di controllo perché le abbiamo dedicate proprio alle donne nei mesi scorsi cosa che faremo nuovamente con la vicepresidente programmeremo quando usciremo dal nostro lockdown riusciremo ad organizzare nuove giornate in questo senso e anche la settimana della prevenzione oncologica che è ancora in corso perché è stata prolungata dalla nostra sede centrale di Roma ci ricorda alcune regole importantissime che poi hanno a che fare anche con la buona salute del cuore perché ci indica una buona alimentazione ci dice no al fumo no all'abuso di alcol ci dice anche di fare tanta attività fisica cose molto importanti che lei penso consiglierà ai pazienti beh direi assolutamente sì perché se è vero che con quello che abbiamo detto fino a qui abbiamo un po' sensibilizzato le donne a non sottovalutare i sintomi che si possono verificare però c'è anche tutta la parte importante da stimolare nelle donne perché le donne sono molto bravi ormai hanno imparato oggi l'educazione sanitaria che riguarda la prevenzione del tumore al seno il pap test sono tutte cose che vengono regolarmente in maniera disciplinata fatte dalle donne la parte della prevenzione cardiovascolare ancora ci dobbiamo un po' lavorare però sicuramente i fattori di rischio vanno conosciuti sicuramente il fumo che hai già citato è uno di questi il sovrappeso corporeo e anche la scarsa attività fisica rappresentano anch'essi un fattore di rischio cardiovascolare quindi uno può accedere anche a queste indicazioni che vengono date ma insomma la salute del corpo alla fine riguarda un po' tutto anche il cuore poi diciamo c'è una parte della prevenzione cardiovascolare che noi facciamo anche qui appunto alla Lega ma banalmente iniziare con una visita cardiologica cioè il cardiologo è in grado valutando la storia clinica quindi se c'è una storia familiare di malattie cardiovascolari ora chiaramente non è che si intende l'infarto a un genitore avuto a 90 anni però se in famiglia ci sono i genitori che hanno avuto una malattia una coronaropatia in età relativamente giovane quindi comunque diciamo sotto i 60 anni anche questo rappresenta un fattore di rischio fare in questo caso quindi il cardiologo è in grado di valutare la storia clinica la presenza di diciamo di un sovrappeso corporeo anche esso misura la pressione quindi banalmente individuare se c'è un'ipertensione arteriosa può prescrivere degli esami del sangue che poi uno può effettuare quindi per valutare ad esempio il profilo lipidico il colesterolo i trigliceridi colesterolo cattivo colesterolo buono la glicemia quindi individuare precocemente fare precocemente una diagnosi di diabete quindi una volta che poi si va a individuare i fattori di rischio si possono poi trattare il cardiologo poi deciderà in base a questa prima valutazione fatta con la visita fatta con la storia fatta con l'elettrocardiogramma se necessario deciderà se fare anche un ecocardiogramma e poi deciderà se approfondire e prescrivere altri esami questo è già un passo enorme nella prevenzione delle malattie cardiovascolari quindi è importante magari partire da questo e poi approfondire se si ritiene necessario da parte dello specialista è anche molto importante a chi affidarsi nel percorso anche di approfondimento del proprio stato di salute e qui alla Lilt anche grazie proprio alla dottoressa Cesareo c'è una buona squadra di cardiologi che ci aiuta proprio a ricordarci quali sono le buone regole come tenersi in forma quali esami fare per controllarsi periodicamente e quindi la squadra la presenta proprio lei dottoressa sì diciamo che è una squadra intanto è costituita da due specialisti da due professionisti la dottoressa Alessandra Ferretti che è una cardiologa diciamo che lavora ha lavorato in ospedale in cardiologia per tanti anni è stato un riferimento anche per noi donne più giovani giovani cardiologhe e che conosco da molti anni quindi insomma diciamo lei è la persona un po' di riferimento abbiamo anche nuove leve anche se diciamo ormai sono professionisti diciamo dichiarati il dottor Santoro il dottore Amato Santoro che rappresenta la parte più giovane e innovativa che si occupa di cardiologia e a breve diciamo ci raggiungerà in arrivo la dottoressa Lucia Baldi anch'essa colonna portante in questi anni della cardiologia mi ha visto piccola quindi diciamo ci raggiungerà anche lei per infoltire questo gruppo e poi non dimentichiamo che a proposito di prevenzione dei fattori di rischio qui abbiamo anche la nutrizionista come professionista come professionista che può aiutarci sia per quanto riguarda proprio se uno ha bisogno di ridurre il peso ma anche per educarci a un regime alimentare a stili di vita sicuramente migliori che ci aiutino a prevenire e poi vabbè per quanto riguarda la medicina di genere abbiamo molti specialisti che sicuramente sono molto conosciuti un gruppo affiatato di professionisti bravi che da molti anni insomma operano qui alla Lega nell'ambito della sonologia e della ginecologia nonché della dermatologia perché come abbiamo visto prima insomma c'è tutto il settore oncologico sì davvero una squadra molto importante soprattutto in questo momento perché i nostri medici sono un grande supporto per tutti i cittadini in un momento in cui ci sono tante paure anche per approcciarsi alle strutture ospedaliere da noi vengono volentieri forse perché il contesto è diverso ma riescono appunto a fare ancora prevenzione e screening mentre alcuni rimangono a casa perché hanno realmente molta paura e rallentare i controlli è un grandissimo rischio l'abbiamo detto nelle nostre trasmissioni e continuiamo a ripeterlo perché bisogna arrivare in tempo sui tumori quindi la tempistica è di estrema importanza sì direi assolutamente siamo in un periodo molto particolare ma qui alla Lega insomma ci siamo organizzati ovviamente facciamo le cose in sicurezza quindi potete accedere tranquillamente è importante non interrompere assolutamente sia la prevenzione ma in particolare non bisogna rinunciare ai controlli che riguardano proprio la prevenzione del rischio oncologico della mammella cioè non farsi impaurire dallo stato attuale le misure di sicurezza ci sono ed è importante comunque la diagnosi precoce soprattutto nell'ambito tumorale per quanto riguarda la parte cardiovascolare mi sento di dire visto che forse l'avete sentito anche in televisione insomma in questo periodo soprattutto di lockdown c'è stata una riduzione significativa degli accessi ospedalieri per l'infarto per esempio e quindi c'è stata proprio per la paura di accedere all'ospedale diciamo una riduzione degli infarti che non è perché si sono ridotti gli infarti è che le persone non si sono recate in ospedale e quindi hanno sottovalutato i sintomi oppure se lo sono tenuti a casa quindi importante che non sottovalutare i sintomi se ci sono quindi accedere all'ospedale accedere alle strutture come la Lega per quanto riguarda la prevenzione in sé che può sicuramente aiutare a continuare a prevenire e fare una diagnosi precoce soprattutto a livello della prevenzione oncologica bene torneremo molto presto a parlare con la dottoressa Cesare intanto la nostra settimana della prevenzione oncologica va avanti continuiamo con le nostre visite gratuite e sulle visite gratuite sono per la medicina preventiva cioè la medicina integrata con il dottor Scapecchi e anche con il nutrizionista che a vostra disposizione gratuitamente nei prossimi giorni potete prendere appuntamento e le visite sono gratuite quindi questa è la nostra offerta diciamo così ma anche il nostro stimolo per la settimana nazionale della prevenzione oncologica vi invitiamo appunto ad avvicinarvi a questi medici perché possono aiutarvi anche per innalzare il vostro sistema immunitario così importante in questo momento in cui il covid domina quindi vi lascio vi ringrazio di averci seguito il prossimo appuntamento è il prossimo giovedì dalle due in poi grazie di essere stati con noi grazie a tutti